Ciao, sono Bojan e voglio fare un saluto di Teleradio Stereo a tutti i tifosi romanisti. Espero che possano vedere una grande partita. Mi sento molto orgoglioso di aver giocato nelle due squadre, anche nella Roma, che sempre sarà nel mio cuore e spero che sia una bellissima partita per tutti. Io sicuramente lo vedrò di qua, d'Inglaterra. Mi piacerebbe tantissimo andare all'Olimpico domani, ma ti farò a casa per tutti i romanisti e anche per i tifosi del Barcellona. Un abbraccio forte, forza Roma, sempre, e visca al Barça anche. Un saluto grande di cuore.